Buonasera a tutti e siete venuti a Capodanno e Tormento! Adesso il vostro comodino va benissimo uguale, però voglio vedere le mani, le mani, le mani, altrimenti che cazzo ci siete venuti a fare qui! Sulle mani, ok, vieni qua, uno, vieni qua, allora, due, tre, via, 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 come se piovesse! Ne abbiamo tantissimi, anche lì, vai Fabio! Ok, e avanziamo la maglietta, la buttiamo da sopra, ora così, tipo opera, e allora! Grazie Filippo, grazie The Buck! Fai vedere l'ombelico, Eric, è solo un piccolo antipasto, sono svenuto in tre, non farlo più! Filippo, grazie a tutti! O monteramsi a tutti i nostri canali, non farlo più nell'omb Kannamista! No, per te sapere a tutti i nostri canali, non farlo più nell'ombomità! E allora, che se vuole un po' che ti è andato con un po' che ti è andato con un po' che ci è andato con un po' di più! Faianson, la tua scena! Alba e benbrita mio! E allora, a tutti i nostri canali di Stato! E allora, a tutti i nostri canali! No, 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 no. No, 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 no. sound remake All my house is the real Prepariamoci il progetto, ognuno semplice! Sì Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info